Al torneo internazionale di Ancona il Bologna è stato abbattuto dalla formazione olandese del Roda per 2 a 1 dopo la disputa dei tempi supplementari. Il Roda è squadra di tutto rispetto che include nelle sue file anche nazionali olandesi che l'Italia ha avuto di fronte in Argentina. Il Bologna a sua volta non ha potuto contare sull'apporto pieno di Juliano, poiché questa volta l'ex capitano del Napoli è stato controllato a vista da De Jong. Comunque i bolognesi hanno giocato per trovare l'intesa in tutti i reparti e questa volta si sono impegnati davvero a fondo dato il valore dell'avversario. Sono andati in vantaggio dopo una lunga pressione in area olandese con una serie di tiri di Maselli e Vincenzi. Nel batti e ribatti si fa avanti Mastalli che scarta un avversario e infila la porta di Youngblood. Sul vantaggio tuttavia i bolognesi non insistono, anzi sono quelli del Roda a prendere in mano l'iniziativa portandosi verso la porta difesa da Zinetti con una serie di contropiedi. E non finisce il primo tempo che già raggiungono il pareggio. Su un errato passaggio di Paris al portiere ne approfitta Koster per segnare. Nel secondo tempo il risultato non cambia, anche se le due squadre vanno molto vicine al gol. Prima il Roda con Nanninga che smorza di testa una palla davanti alla porta di Zinetti ma Maselli riesce a salvare. Poi con Vincenzi prima e con Bordon sono i bolognesi a mettere in difficoltà Youngblood. Ma saranno necessari i tempi supplementari per decidere del confronto e gli olandesi vincono con un gol guadagnato su rigore. Koster è messo a terra da sali, dagli 11 metri tira De Jong ed è 2 a 1. Grazie a tutti.